BTM 2025 sarà un'edizione speciale e ricca di novità. L'evento fieristico, che sarà ospitato presso la Fiera del Levante di Bari dal 26 al 28 febbraio prossimo, è stato presentato in occasione del TTG di Rimini. BTM racchiude l'opportunità di scoprire l'offerta turistica del territorio, incontrare i principali attori che operano nel settore e avviare virtuose collaborazioni. Si rinnova l'accordo con il Baipuglia, quindi si va in un'unica direzione. Abbiamo aumentato la metratura di altri 4.000 metri, quindi andremo a 16.000 metri quadri. Ci sarà un'area molto importante dedicata al trade, al travel trade, con la presenza di enti nazionali del turismo da tutto il mondo e tanti operatori turistici che verranno dall'Italia, dall'Europa e dal mondo. Anche per la prossima edizione si rinnova la collaborazione tra BTM e Baipuglia, dimostrando come il pubblico e privato, lavorando insieme, riescono a restituire un grande momento di riflessione e crescita per il settore turistico. Le novità sono i mercati, vorremmo iniziare a lavorare sui mercati come Singapore, come il Giappone, come il Messico, quindi iniziare a far conoscere la Puglia anche a queste regioni, a questi paesi del mondo, proprio per cercare di non essere dipendenti da singoli mercati. In questo momento gli Stati Uniti sono molto importanti, ma come sapete purtroppo siamo sotto il cielo sempre, come è successo proprio in questa zona del mondo. Quando è venuta a mancare la Russia hanno avuto un problema importante, quindi non essere dipendenti da un solo mercato è la strategia su cui lavorare, quindi iniziare ad aprirsi a altri mercati importanti proprio per non essere dipendenti da un solo mercato.